Buongiorno, ben trovati. 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 alla Daico di Chieti Scalo, i sindacalisti sospesi diventano un caso nazionale, anticipo che più tardi nel corso della nostra rassegna stampa vedremo anche un servizio in merito e poi le cronache, il nuovo appalto, siamo a Chieti rifiuti a fare da 60 milioni, vasto spiagge saltano le nuove concessioni e poi gira con bombe nella busta, Chieti la strage sfiorata a Ripa fa scoprire un'altra storia Lasciamo l'edizione di Chieti del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'edizione di Teramo e anche in questo caso daremo uno sguardo ai titoli della prima pagina dell'edizione teramana del Centro in questo caso il titolo principale, il titolo di apertura di questa edizione riguarda la sanità Sprechi, la ASL paga 16 giardinieri, il manager non ne abbiamo bisogno, dobbiamo rimediare e poi la Carbotec apre uno stabilimento in Serbia, l'azienda di Martinsicuro si espande all'estero e poi siamo alle cronache, bimba nasce invalida, chiesti 6 milioni, è stata citata la ASL e poi a Giulianova, fallimento del CIRSU, respinto il ricorso, Pineto, chalet sequestrato l'inchiesta della magistratura è partita da Rimini e chiudiamo con la prima pagina del Centro, edizione dell'Aquila Aquila-Avezzano-Sulmona, questa è l'edizione che noi andiamo ad esaminare nella prima pagina con un titolo che riguarda il post-terremoto crollo dei balconi, maxi sequestro, l'Aquila bloccati 18 milioni di euro alle tre ditte del piano case e poi schianto nel fucino grave un operaio della Tecnico Furgone contro un trattore e poi ad Avezzano lite regione giudici sul caso della power crop e a Sulmona Tagliandi-Dimasci sorpassa la Salvati, questa iniziativa del Centro in vista delle elezioni amministrative nella città Peligna e poi rifiuti, siamo all'Aquila, aumenti del 20%, l'Aquila tassa più cara per coprire il buco in bilancio e poi vedete il caso, se parliamo della Virtus Lanciano come tutti saprete, squadra frentana che è stata penalizzata ieri di 5 punti e che è scivolata in piena zona play-out la Presidente non ha pagato il marito e è stata penalizzata, penalizzata la società c'è questo articolo che parla proprio di questa vicenda che poi ritroveremo e affronteremo anche con un servizio nella pagina di sport, dunque nei servizi che riguardano lo sport allora lasciamo le prime pagine del quotidiano Il Centro abbiamo visto le varie edizioni andiamo a vedere ora invece i titoli dei principali quotidiani nazionali come sempre grazie al sito del Ministero degli Interni per dare uno sguardo anche a quelle che sono i titoli proprio dei quotidiani oggi in edicola partiamo dal quotidiano della CEI Avvenire in cerca di approdo, si parla di immigrazione migranti a Lesbo, alta tensione e nuovi sgomberi le testimonianze del naufragio c'è stato un vertice dei leader poi vedete il titolo che riguarda questa vicenda che arriva dal nord Europa quest'uomo accusato dell'attentato in Norvegia in carcere violati i diritti di Breivik che dunque dovrà essere risarcito e poi politica, duello tra Renzi e minoranza PD voto nel 2017 andiamo avanti siamo al Corriere della Sera il titolo principale con il corredo di due foto riguarda le primarie negli Stati Uniti perché è sempre più lotta a due fra la democratica Hillary Clinton ed il repubblicano Donald Trump i super favoriti per la Casa Bianca vedete il titolo del Corriere della Sera e poi piano di Bruxelles per i migranti con gli euro bond e poi la politica di casa nostra le amministrative, le elezioni di Roma Bertolaso ad un passo da ritiro Forza Italia si spacca su Roma e siamo al Fatto Quotidiano l'inchiesta ecco perché Renzi attacca il PM il PD ha 124 indagati ed imputati e poi la vicenda Banche Popolare di Vicenza che bel salvataggio valeva 6 miliardi ora 10 milioni e proseguiamo siamo con il quotidiano Il Foglio che tratta spesso e sempre anzi tematiche soprattutto di natura politica tra i tanti titoli prendiamone uno in particolare Rumori Sinistri questo articolo perché non fa troppo scandalo D'Alema che tifa Parisi D'Alema esponente del PD storico dirigente del Partito Democratico che secondo questo articolo tifa per Parisi candidato sindaco a Milano con il centrodestra e siamo al Gazzettino di Venezia quotidiano del nord-est si parla ancora del caso Banche caso della Popolare di Vicenza Ghizzoni amministratore delegato di Unicredit dice l'operazione andrà in porto la rabbia e i timori dei soci azzerato il valore della banca Atlante acquisterà le azioni a 10 centesimi ritarda il via libera della Consob andiamo avanti proseguiamo siamo al quotidiano il giornale via libera alle case pignorate alla faccia dei risparmiatori il governo aiuta le banche contro chi non paga ma rinvia ancora in imborso i correntisti truffati e poi la politica centrodestra si lavora ad un progetto federativo e poi i 90 anni della regina Elisabetta la regina senza tempo che compie oggi 90 anni e questo è un traguardo sicuramente importante per una regina che è sul trono d'Inghilterra pensate da 60 anni e siamo al quotidiano il mattino di Napoli la vendetta del boss contro lo Stato Secondigliano spari sulla facciata della caserma i carabinieri rispondono non ci intimidiscono ci sono state queste raffiche di mitra sparate contro la caserma dei carabinieri a Secondigliano un episodio davvero inquietante e poi la vicenda dell'infermiera assassina qui c'è il punto interrogativo perché non ci sono prove e la donna è stata scarcerata dopo il pronunciamento del riesame il PM la accusa di 13 omicidi ma vedete non ci sono prove e la donna è uscita dal carcere ed è tornata nella sua casa e poi in basso Berlusconi pronto a scaricare Bertolaso vertice nella notte il centro del San Roma converge sulla Meloni siamo al messaggero bonus a 100 euro il piano segreto sul tavolo di Renzi l'ipotesi di alzare il contributo da 80 euro ed estendere la platea pensioni uscita anticipata dal lavoro con prestito delle banche e il TFR come garanzia e poi anche qui sul messaggero quotidiano di Roma ritroviamo il titolo che riguarda proprio le elezioni nella capitale Bertolaso ad un passo da ritiro Forza Italia a pezzi dilemma Berlusconi siamo al quotidiano il secolo XIX quotidiano di Genova Maria Nera tutti i buchi della sicurezza il piano di emergenza era scaduto anche nel 2008 tubi sotto accusa c'è stata questa fuoriuscita di petrolio che ha creato grossi problemi soprattutto per la fauna marina proprio nella zona di Genova e ritroviamo la notizia dei morti in corsia l'infermiera torna libera prove insufficienti scaricata scarcerata dal riesame vedete la donna all'uscita dal carcere e poi a Roma Berlusconi scarica Bertolaso questo è uno dei titoli dei giornali di oggi siamo al quotidiano all'altro quotidiano di Roma il tempo in alto l'apertura dedicata al calcio perché ieri sera si sono giocate le gare del turno infrasettimanale del massimo campionato Totti Spalletti 3 a 2 questo è un titolo che spiega in un certo senso quello che è accaduto all'Olimpico la Roma va sotto con il Torino poi a 5 minuti dalla fine entra il capitano ed è l'apoteosi doppietta di Totti e Roma che vince 3 a 2 Totti che nelle ore scorse aveva avuto un alterco con il tecnico Spalletti tutto smentito dalla società ma qualcosa sicuramente era accaduto Bertolaso che terremoto centrodestra verso Giorgia l'ex della protezione civile non convince sembrava fatta per la Meloni poi lo stop il cavaliere indeciso e poi questa notizia che ha trovato spazio anche ieri nei principali network nazionali pochi controlli e import letale così la nostra salute a rischio la blacklist dei cibi taroccati e belenosi poi l'osservatore romano il quotidiano della Santa Sede conflitto dimenticato il Papa ricorda anche la tragedia di Cernobil e prega per l'Equador colpito dal terremoto questo forte terremoto che ha investito il paese del Sud America e siamo al quotidiano l'unità benvenuti al sud c'è un'Italia che vuole i migranti contro il declino demografico e l'abbandono Saviano dice il mezzogiorno torna a vivere se li accoglie è già così in Calabria poi vedete il pollice alto di Hillary Clinton che ha vinto le primarie a New York sarà lei molto probabilmente la candidata democratica per questo rush finale contro Donald Trump dei repubblicani siamo alla gazzetta del mezzogiorno la pensione che non verrà in arrivo 150.000 buste con la simulazione di quanto si percepirà Camusso non parlate di previdenza a 75 anni il governo si muove dice il segretario nazionale della CGL poi in alto c'è il titolo che ci richiama al referendum di domenica scorsa Emiliano Renzi dopo depuratori e trivelle la sfida sulle lobby Emiliano governatore della Puglia che è stato uno dei principali sostenitori di questo referendum che però è stato annullato in quanto non si è raggiunto il quorum siamo al quotidiano libero servì in casa nostra i pensionati niente bonus agli stranieri con Bebessi questo è il titolo principale del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro c'è il fondo proprio del direttore i giudici e l'Unione Europea spalancano le porte l'Inps dovrà pagare anche gli stranieri in possesso di permessi di soggiorno temporanei e per le loro case asilo e accompagnamento e poi un sondaggio che fa tremare il premier Renzi a ottobre rischia di andare a casa infine l'ultimo titolo anche sul libero quotidiano di area centrodestra il Cavaliere fa la mossa giusta tutti con la Meloni dunque quasi ufficiale la rinuncia di Bertolaso e questo era l'ultimo quotidiano per quanto riguarda la rassegna stampa che abbiamo potuto vedere proprio dal sito del Ministero degli Interni noi invece andiamo a vedere ora perché vi dicevo che ieri sera si è giocato il turno infrasettimanale del campionato di Serie A le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dal Corriere dello Sport andiamo a vedere anche un po' quali sono stati i risultati di questa giornata di campionato Juve e Tuo ovviamente in riferimento allo Scudetto battuta anche la Lazio Scudetto ad un passo e poi ovviamente il Corriere dello Sport quotidiano romano punta su quello che è accaduto all'Olimpico due gol in tre minuti delirio totti la Roma va sotto con il Torino due volte il capitano entra all'ottantaseiesimo e ribalta la partita da solo 3 a 2 il risultato finale ma andiamo a vedere quali sono stati i risultati della giornata di ieri nel campionato di Serie A una giornata importante con Chievo Frosinone 5 a 1 Empoli che ha battuto il Verona 1 a 0 Genoa Inter 1 a 0 Juventus Lazio 3 a 0 Napoli Bologna 6 a 0 giocata però martedì Palermo Atalanta 2 a 2 Roma Torino 3 a 2 Sassuolo Sandoria 0 a 0 Udinese Fiorentina 2 a 1 questa sera si giocherà il posticipo che vedrà in campo il Milan ed il Sassuolo andiamo a vedere il titolo la pagina principale della Gazzetta dello Sport Totti sei un mito entra e fa due gol in tre minuti e purga Spalletti e blinda la Champions League dunque due gol pesantissimi del capitano vedete qui purga Spalletti perché il riferimento a quello che dicevamo prima alle liti che ci sono state tra il capitano della Roma e il tecnico giallorosso e poi in alto la signora Scudetti Manzuchice doppio di bala Lazio KO lunedì la Juve può vincere il quinto Scudetto di fila e chiudiamo con tutto sport Totti ribalta il toro i signori del gol e il primo titolo riguarda ovviamente la sconfitta tutto sport quotidiano di Torino del Torino a Roma e poi i signori del gol Manzuchice e di bala sono i giocatori che hanno regalato con il loro gol la vittoria della Juventus sulla Lazio allora abbiamo visto i titoli dei principali quotidiani nazionali abbiamo visto anche i titoli che riguardano i principali quotidiani sportivi del nostro paese ora possiamo andare a vedere qualche titolo prima di concentrarci sul meteo con il nostro Giovanni De Palma qualche titolo che riguarda l'Abruzzo ovviamente partendo dal quotidiano il centro concorso scuola si parla di scuola in questa prima pagina arriva il commissario pensionato i compensi sono troppo bassi anche se il ministero annuncia il raddoppio problemi per le sedi per le prove occorrono aule attrezzate con computer e poi in basso volo per Roma spiraglio all'Italia trasporti su gomma incontro positivo con i sindacati piano sinergico con l'Umbria l'obiettivo è abbassare i costi ieri incontro per quanto riguarda il volo Pescara-Roma che ovviamente è finito un po' nel mirino all'Italia e poi futuro delle banche locali più leggere rapide e utili gran consulto organizzato da nuova carichieti con esperti e imprenditori una legge delinquenziale i debiti vanno pagati e poi metalmeccanici forte adessione allo sciopero di quattro ore vediamo anche l'altra pagina che riguarda l'Abruzzo cresce l'impresa rosa così si fa più carriera siamo arrivati alle pagine di Pescara del centro allora andiamo a vedere brevemente le prime due pagine della cronaca del messaggero per quanto riguarda la cronaca regionale ancora qualche secondo e poi parleremo di meteo con il nostro Giovanni De Palma proprio per sapere quali saranno le provisioni del tempo per le prossime ore anche per i prossimi giorni visto che ci avviamo verso il weekend ma come detto vediamo un attimo le pagine d'Abruzzo del quotidiano il messaggero per andare a vedere i titoli principali nella prima pagina si parla di balconi crollati sequestro record siamo all'Aquila post sisma colpo di scena nell'inchiesta sulle forniture scadenti ai progetto case bloccati beni agli amministratori di tre aziende napoletane per 18 milioni di euro e poi Team le bollette demorose finiscono a carico dei cittadini siamo a Teramo parliamo della Teramo ambiente decisione drastica sui crediti inesigibili della tassa per i rifiuti e poi verso l'estate Pescara cala l'inquinamento del mare questa una buona notizia e poi la seconda pagina strade depuratori masterplan al capolinea ora inizia la vera sfida la giunta regionale ha approvato dopo la trattativa con il ministero 77 interventi per un miliardo e mezzo di opere e poi sanità in basso Paolucci la prossima grana e esplosa la spesa farmaceutica commissariamento quasi alle spalle i tagli per il prossimo triennio sono una mazzata bisogna continuare a lavorare ha detto l'assessore ma noi siamo prima di iniziare a leggere insieme le pagine delle cronache provinciali siamo alla pagina invece del meteo con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori allora siamo negli ultimi giorni di aprile c'è bel tempo è arrivato sono arrivati anche i primi caldi la mattina ovviamente fa piuttosto freddo però durante la giornata le temperature riescono anche a superare o comunque a raggiungere i 20 gradi continuerà questo bel tempo anche per i prossimi giorni? purtroppo no Paolo perché ne avevamo già parlato nei giorni scorsi se da un lato il tempo oggi e nella giornata di ieri è stato caratterizzato da condizioni di stabilità e temperature tutto sommato in linea sono tornate in linea le temperature con le medie stagionali dopo essere state abbondantemente al di sopra delle medie nei giorni scorsi ora la tendenza è verso un nuovo graduale peggioramento perché l'alta pressione che ci ha interessato e ci interesserà fino alle prossime ore tenderà gradualmente ad attenuarsi e ciò favorirà l'arrivo di un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale che già nelle prossime ore favorirà un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla Marsica dall'Aquilano e sulle zone montuose in estensione verso il settore orientale si tratterà inizialmente di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo però da domani nel corso della giornata di domani invece saranno possibili annuvolamenti più consistenti Paolo con possibili rovesci e anche delle manifestazioni temporale che soprattutto sulle zone montuose in estensione poi nel pomeriggio sul versante orientale della nostra regione ma questo peggioramento segnerà segnerà l'inizio di una nuova fase meteorologica caratterizzata da tempo decisamente più freddo e marcatamente instabile instabilità marcata nel corso delle fine settimane perché l'alta pressione sarà sostituita dall'arrivo di masse d'aria fredda inizialmente di origine atlantica ma successivamente proveniente proprio dal nord Europa che favoriranno condizioni di diffusa instabilità quindi annuvolamenti piuttosto consistenti a partire già dalla giornata di sabato con dei rovesci e anche dei temporali che poi nel pomeriggio tenderanno ad estendersi sul settore orientale della nostra regione instabilità anche nella giornata di domenica con alternanze di schieriti annuvolamenti però nella seconda parte della giornata aumenterà la probabilità di rovesci e temporali e anche nei giorni successivi quindi anche per il famoso cosdetto chiamamolo ponte del 25 aprile la situazione sembra destinata ad essere ancora caratterizzata da un tempo decisamente stabile e anche da un'ulteriore diminuzione delle temperature perché proprio tra domenica e lunedì sembra giungere deciso un nuovo impulso di aria piuttosto fredda per la stagione proveniente dal nord di Roma che non solo favorirà ancora diffusi episodi di instabilità ma darà luogo ad una ulteriore generale diminuzione delle temperature insomma si passerà da una fase meteorologica caratterizzata da alta pressione di matrice africana con temperature abbondantemente al di sopra delle medie stagionali a una fase meteorologica decisamente più fredda ed instabile che si protrarrà anche nei primi giorni della prossima settimana e quindi è una situazione questa da seguire passo dopo passo Paolo bene grazie Giovanni dunque da come abbiamo ascoltato tornerà il maltempo tornerà anche il freddo dovremmo mettere da parte per qualche giorno le magliette a manica corta che un po' tutti avevamo tirato fuori io ti ringrazio Giovanni appuntamento ovviamente domani sempre nel corso di mattino 6 per nuovi aggiornamenti sul meteo grazie buona giornata e buon lavoro grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 e dunque per restare sempre aggiornati gli strumenti ormai li conoscete la pagina di Abruzzo Meteo www.abruzzometeo.org proprio del nostro Giovanni De Palma con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'evoluzione del tempo nella nostra regione poi la pagina Facebook per interagire per avere anche un'altra possibilità un altro strumento per restare sempre aggiornati con la situazione del tempo noi torniamo prima della consueta pausa alle pagine dei nostri quotidiani partiamo dal centro cronaca di Pescara la prima pagina riguarda la cronaca piazza Salotto previa di Ladri e Balordi tre spaccate in tre giorni l'ultima all'alba di ieri alla pasticceria napoletana dove hanno rubato 2000 euro e la banda dei garage fa razzia di bici 15 colpi in una notte e poi andiamo avanti ematologia a due facce le cure in stanze strette il primario di Bartolomeo dice siamo un centro d'eccellenza ma mancano gli spazi disagi per i 100 pazienti al giorno del day hospital e nei laboratori per le cellule andiamo ancora avanti in Venezuela dal 1952 ma incassano la pensione lei 91 anni lui 84 la procura li accusa di avere percepito 150 mila euro non dovuti la coppia verrà processata ad ottobre la difesa ha agito in buona fede e poi un 76enne patteggia per stalking aveva dato fuoco alla casa di lei e poi mare migliorano i dati dopo i prelievi sulla riviera nord di Pescara via Prati chiude per un mese da oggi al via il completamento degli interventi di messa in sicurezza della strada del quartiere di Pescara Colli e poi domani al Flaiano concerto di beneficenza per Aia fondi per gli orfani del Togo andiamo ancora avanti vite parallele questa storia che arriva da Pescara stessi nomi e date di nascita amici grazie alla burocrazia Franco Calanca pescarese volevo andare in pensione ma risultava che lo ero già a Modena ho rintracciato il mio monimo quante analogie li vedete insieme nella foto e poi la festa della lettura i libri invadono i parchi della città sabato la manifestazione organizzata da 33 associazioni nell'auditorium Petruzzi due spettacoli nel fine settimana allora noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo come sempre in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 torniamo alle pagine del quotidiano il centro e apriamo una parentesi di sport perché ieri è stata inaugurata la mostra sugli 80 anni del Pescara sono partite le iniziative proprio per festeggiare questo prestigioso traguardo della società Bianca Azzurra vediamo proprio dalla pagina del centro in foto la storia del Pescara una magia lunga 80 anni negli scatti dei fratelli Deligatti momenti più preziosi della storia Bianca Azzurra Junior il campione più amato l'accoglienza in aeroporto fu indimenticabile ha detto Leo Junior vedete alcune foto che sono state esposte proprio nella mostra inaugurata ieri e ad inaugurare e al taglio del nastro non poteva che mancare Leo Junior che andiamo ad ascoltare Anche se sono stato soltanto due anni due anni indimenticabile e perciò è un onore per me fare parte della storia di questa società e poi soprattutto di questa città perché in questi due anni abbiamo vissuto veramente giorni moltissimi felici io sono stato accolto di una maniera che non pensavo e alla fine per me è sempre un piacere ritornare alla città Pescara di oggi in lotta per tornare in serial Pescara di Massimo Oddo ma non posso parlare così sarebbe una ingiustizia della mia parte ho visto la partita ieri e mi ha dimostrato una cosa importante in questo in questo momento che si arriva diciamo alla fine del campionato che è una squadra soprattutto grintosa che ha saputo gestire un risultato ieri che era abbastanza difficile perché l'Espezi ha fatto diciamo tutto quello che poteva per arrivare almeno al pareggio e mi sembra che i ragazzi di Massimo sono riusciti a fare diciamo hanno inquadrato la partita come doveva fare e si rimangono con questa grinta fino alla fine penso che proprio possono farcela queste le parole di Leo Junior anche sul Pescara di Massimo Oddo Leo Junior che sarà sulle tribune dell'Adriatico sabato dopo domani in occasione della gara di campionato Pescara Brescia Pescara che indosserà la maglia celebrativa proprio per questi 80 anni siamo alle pagine di Montesilvano del centro baraccopoli di disperati a ridosso del fiume malato l'allarme lanciato dal presidente dell'associazione Nuovo Saline alle istituzioni per un gruppo di nordafricani che vive a pochi passi dalla discarica dei veleni poi avviso pubblico a Redi Urbani con lo sponsor domande fino al 9 maggio in basso assegnati oltre 100 posti per il nuovo mercato a Ranalli proseguiamo Pitbull fuori dal recinto uccidono un volpino Montesilvano ore di panico in via in Gran Paradiso per due animali in libertà i proprietari sono stati segnalati alla magistratura però messa a custodia poi a Spoltore ladri in azienda rubato un autocarro e poi ancora a Spoltore vedete ex Sidital Risarcimento e Royalties Spoltore benefit della centrale elettrica al comune per oltre 220 mila euro e poi in basso andiamo a Pianella e scontro sui debiti pagati dal comune ad ambiente SPA e poi sempre a Pianella operativo lo sportello per le attività produttive andiamo avanti siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara partiamo proprio dalla parte alta della pagina Francavilla verso il voto avvia la campagna elettorale Emiliano nel salotto del sindaco uscente Antonio Luciani e poi sempre Francavilla tari meno cara evitata la vendita della piscina Piazza Sant'Alfonso lavori a rilento ed è subito polemica a fondo pagina Manopello una lapide per il medico più amato in quattro comuni mentre a San Giovanni Teatino le innovazioni fa meccanica al Microsoft Forum di Milano e siamo alla pagina invece dell'alta Val Pescara dell'area Vestina partiamo da Penne Penne città aperta candida Semproni si parla anche qui di elezioni amministrative nella città Vestina e poi sempre a Penne ospedale declassato le nuove funzioni Penne salvi pronto soccorso e le attività ambulatoriali a San Massimo che diventa presidio sanitario di area disagiata e poi in basso popoli genitori che fatica ecco i premi e sempre a Penne scolaresche a lezione di legalità siamo alla pagina di Chieti del centro dai coi sindacati puniti diventano caso nazionale i lavoratori dell'azienda dello Scalo scioperano insieme ai colleghi delle altre sedi da Roma arrivano i vertici di CGL tutti in difesa dei sei della RSU che sono stati sospesi dall'azienda noi su questa vicenda andiamo a vedere il servizio una storia che sta suscitando attenzione anche dai rappresentanti nazionali che oggi sono a corsiacchietti per sostenere i colleghi abruzzesi il caso è quello della DAICO ed i sei RSU rappresentanti sindacali che oggi temono per il proprio posto di lavoro a far scaturire tensione nei rapporti un comunicato diffuso da questi ultimi ai media locali l'anno fiscale dell'azienda DAICO è primo marzo 28 febbraio l'azienda da sola ci convocava sempre e in quel mese di marzo si discuteva i piani prossimi mesi quest'anno non l'ha fatto l'anno scorso l'ha fatto in netto ritardo a giugno se ricordo bene dopodiché abbiamo fatto un comunicato stampa e l'hanno fatto le segreterie di Filctem 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 cioè le tre categorie di Cisle Filctem per sensibilizzare non so se questo ha suscettato il fatto che il nuovo presidente l'ha nominato il 15 dicembre se è visto offeso legittimità nelle richieste legittimità nelle comunicazioni questo è il pensiero dei rappresentanti sindacali che annunciano l'avvio di una vera e propria battaglia se il caso dovesse portare al licenziamento dei sei sindacalisti nello svolgimento delle loro mansioni siamo di fronte è stato un atto grave che non ha precedenti e che a noi sembra assolutamente esagerato rispetto ai contenuti delle cose che sono state dichiarate dalle nostre rappresentanze sindacali c'è il rischio del licenziamento delle sei RSU a questo punto? noi lo escludiamo assolutamente di questo abbiamo interessato anche le nostre segreterie oltre che nazionali anche le confederazioni sarebbe il primo caso eclatante che succede in Italia per aver dimostrato un diritto insomma si rivendicano dei diritti e si viene licenziati soltanto per un'informazione ci sembra assurdo stiamo sulla pagina di Chieti del centro gira per la città con Ordigni in una busta la strage sfiorata ripatiatina fa trapelare un episodio allarmante accaduto tre mesi fa a Chieti siamo alla pagina dell'Aquila lo scandalo del progetto case crollo balconi sequestrati 18 milioni il provvedimento firmato proprio il 6 aprile ai danni delle tre ditte campane che hanno eseguito i lavori accesi di preturo poi Avezzano scontro fra regione giudici del Tar sul caso power crop e poi in basso ad Avezzano schianto col furgone dei rifiuti è grave Teramo spreco di personale 16 giardinieri alla Asl il manager Fagnano dice non ne abbiamo bisogno dovremo porvi rimedio e annuncia anche un taglio sull'appalto anti incendio e poi bimba nasce invalida chiesti 6 milioni malformazione non diagnosticata con l'ecografia genitori citano l'azienda sanitaria per danno e poi cronaca in basso sequestrato uno sciale a Pineto le CEC è gestito da una società che farebbe capo a Granatiero andiamo ancora avanti siamo arrivati però alle pagine dello sport che vedremo tra qualche minuto ripartiamo dal messaggero e dalle pagine di Pescara l'euro che farà fuggire i turisti si parla dell'approvazione della tassa di soggiorno che è vista dagli operatori sarà sicuramente penalizzante dice Giorgio Cagidemetrio dell'agenzia di viaggi Claudio Minicucci perché pagare per fare il bagno qui solo il presidente della Camera di Commercio dice sì mi aspetto di vedere il piano marketing ha detto il presidente Becci in basso l'Italia conferma la revoca dei voli Pescara studia i numeri si parla soprattutto della cancellazione o comunque dei problemi che ci sono per il volo Pescara-Roma faccia a faccia di Abruzzo e Umbria con l'amministratore delegato Kramer e Ryanair resta solo se il governo cancella la tassa andiamo avanti ricetta elettronica tra costi e software un rodaggio difficile a Pescara soltanto sei prescrizioni su dieci viaggiano con il nuovo sistema medici e farmacisti spiegano perché e poi la cronaca giudiziaria da Morrone a Ciarelli quando il killer se la cava in basso jazz cantatore musica afro serata fusion per aiutare la missione togo di Martino e siamo alla pagina un'altra pagina di Pescara in calo l'inquinamento del mare nella zona di via Balilla escherichia di poco sopra i limiti ed enterococchi nella norma secondo i primi dati dell'atta e a Montesilvano la pineta ripulita dai bimbi bandali all'amichetti siamo a Francavilla rubati i computer e poi anche panchine letterarie per la giornata del libro a Pescara proseguiamo siamo alla pagina dell'Aquila balconi sequestrati 18 milioni alle ditte il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza ha eseguito il provvedimento nel filone scattato dopo i crolli su questa vicenda possiamo dunque andare a vedere il servizio della nostra redazione dell'Aquila un maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie che per oltre 18 milioni di euro è stato effettuato questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza dell'Aquila nei confronti delle imprese responsabili dei lavori per la realizzazione degli alloggi antisismici del progetto case di Cese di Preturo dove lo ricorderete nel settembre del 2014 un balcone in legno si staccò dal terzo al secondo piano a causa del materiale definito scadente e di difetti strutturali nelle costruzioni la somma sequestrata equivale al valore dell'appalto vinto da Futura Aquila società consortile ARL costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno dei 19 insediamenti abitativi antisismici realizzati dopo il terremoto del 2009 il sequestro è una conseguenza dell'inchiesta della Procura della Repubblica scattata in seguito al crollo del balcone le lunghe indagini portate avanti dal corpo forestale dello Stato e dalla finanza hanno portato nell'ottobre del 2015 ad iscrivere sul registro degli indagati ben 37 persone le indagini svolte hanno anche permesso di appurare che i materiali impiegati nell'edificazione dell'insediamento abitativo non erano conformi a norme prescrizioni i materiali ossia gli elementi strutturali in pannello multistrato utilizzati dalla Futura Aquila per realizzare i solai erano tra l'altro privi di collante che causava la riduzione di resistenza di tenuta nel tempo delle strutture durante le indagini gli inquirenti sono riusciti anche ad accertare che la società fornitrice del materiale alla Futura Aquila aveva conseguito un mero attestato di origine che certificava la provenienza del materiale da uno stabilimento in Polonia attestazione che sebbene identificasse lo stabilimento di produzione non certificava in alcun modo l'idoneità del materiale prodotto agli usi cui era destinato ciò secondo l'accusa avrebbe indotto in errore la presidenza del Consiglio dei Ministri circa il rispetto degli obblighi contrattuali le accuse sono di crollo di costruzioni e altri disastri dolosi falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale truffa aggravata ai danni dello Stato e frodi in pubbliche forniture restiamo la pagina dell'Aquila del Messaggero rinnovo contratti a tempo determinato i due uffici speciali rischiano la paralisi e poi Fontana Luminosa ripresi i lavori alla colonnina per auto elettriche residenti infuriati in basso bilancio in vista aumento della Tari abbazzano rubate le offerte vicino all'altare proseguiamo aggregati non a norma sono una marea quelli da commissariare siamo sempre all'Aquila decine e decine nel comune capoluogo e oltre 200 nel cratere gli stabili che non si sono costituiti in consorzio e poi l'emergenza polvere a causa dei cantieri nel centro storico scatta giro di vite sanzione anche dai vigili urbani e poi il tramonto dello sport monta la rabbia degli aquilani reazioni indignate alla crisi perdurante delle massime realtà si parla soprattutto dell'Aquila Calcio e dell'Aquila Rugby siamo alla pagina di Avezzano Sulmona addio Powercrop siete inadempienti il sottosegretario regionale Mazzocca annuncia il recesso dall'impegno del 2007 propone un piano agricolo alternativo la decisione annunciata da tempo è stata ufficializzata ieri ed è basata sul fatto che le attese non sono state rispettate Castel di Sangro Brucellosi Bovina altri dieci capi positivi e poi superstrada dell'Iri cani abbandonati falciati e uccisi dalle auto siamo in Marsica poi a Sulmona pass scaduti le migliaia di multe sono da pagare sempre a Sulmona casa 40 famiglie con il fiato sospeso oricola misterioso furto di notte in comune infine tornando ad Avezzano nuovo municipio interrogati i tecnici siamo alla pagina di Chieti sindacalisti puniti la protesta paralizza la laico abbiamo visto il servizio isole ecologiche e droni antivandali la rivoluzione della nettezza urbana e poi tragedia Roccamontepiano ragazza vola dalla finestra e muore bomba in cantina si indaga sul proprietario siamo a Ripateatina poi pagina di Lanciano Vastortona nuovo ride di vandali nelle scuole porte danneggiate nello storico asilo Maria Vittoria rubati soldi computer e televisore al vicino centro anziani Vasto lotta la droga carabinieri con i cani all'istituto Mattei e poi due vastesi finiscono in manette per il tentato furto alla detitta in basso bimba di 4 anni si sente male a scuola ricoverata a Pescara per meningite è stata trasferita dall'ospedale di Vasto in gravi condizioni e poi Ortona Febbo in calza d'Alfonso sull'ennoteca regionale siamo alla pagina di Teramo Teramo Ambiente la quota dei morosi finisce nei rincari del 2016 ci sono 1.300.000 euro di crediti inesigibili nell'arco degli ultimi dieci anni la beffa per la tassa dei rifiuti emerge dal nuovo piano economico finanziario e poi la politica la crisi in questo caso da Di Sabatino e Morra altri paletti per Brucchi ruba gioielli mentre fa la babysitter e poi sanità Fagnano sale operatorie siamo inefficienti dice il manager della ASLE poi alla pagina di Giulianova Roseto Valvibrata sigilli alla licenza di Granatiero Alchec è successo a Pineto a Roseto oggi il consiglio comunale può approvare i deco a Giulianova appuntamenti estivi commercianti al lavoro fallimento del CIRSU respinto il ricorso e poi andiamo in Valvibrata provinciale 4 via ai lavori di sistemazione della strada siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine del quotidiano la città di Teramo partiamo ovviamente lo faremo tra qualche istante con la prima pagina del quotidiano la città di Teramo ancora qualche secondo e poi andremo a vedere insieme quali sono i titoli principali che sono contenuti proprio nella prima pagina del giornale che tratta in maniera particolare proprio le vicende di Teramo e provincia ancora qualche secondo ecco qui la pagina del quotidiano la città di Teramo si parla del CIRSU in prima pagina l'appello conferma il fallimento rigettata in toto la linea sostenuta dai sindaci e dal consorzio dei rifiuti si va avanti con la liquidazione vediamo dunque le pagine interne della città partiamo da pagina 3 la cronaca regionale all'Italia il Ryanair due spine per D'Alfonso vertice a Roma con la compagnia di Bandiera ma tra Pescara e Roma resta il collegamento in bus poi sciopero metalmeccanici in Abruzzo superato il 90% all'Aquila in basso balconi crollati 18 milioni di euro sotto sequestro ai costruttori andiamo avanti cronaca cialè sequestrato per uno scontrino l'inchiesta contabile sulla CEC di Pineto partita da un caffè consumato in un locale della Dolce Vita a Rimini in basso sanità sindacati spaventati dal riordino degli ospedali la crisi in comune siamo a Teramo in commissione l'anticipo della resa dei conti i primi atti in vista del bilancio preventivo 2016 i conti della Teramo Ambiente lievitano ancora di 1 milione 700 mila euro viabilità in basso via ai lavori alla rotatoria dell'università 5 anni per l'occhio perso dalla vittima e la richiesta complessiva di pena per i due teramani protagonisti dell'aggressione della vigilia di Natale e poi sempre a Teramo patteggia la babysitter che rubò gioielli in casa proseguiamo sempre Teramo mai più Erasmus nei paesi con la pena di morte la proposta di un gruppo di studenti di giurisprudenza scuote le coscienze all'incontro dell'università di Teramo dedicato a Giulio Reggeni e poi ricorso al TAR attesa sulla richiesta di sospensiva per il comunale poi sicurezza 80 bimbi feriti nel 2014 per mancato uso del seggiolino questi i dati allarmanti resi noti dall'ACI di Teramo ancora Teramo Coccinella montate le inferiate antivandali prima risposta del comune dopo i ripetuti atti vandalici furti e intrusioni preventivate le telecamere andiamo ancora avanti provincia l'appello conferma il fallimento del CIRSU questo è il titolo anche della prima pagina rigettato il ricorso presentato dai sindaci soci e dal consorzio si va avanti con la liquidazione Val Vibrata Tortoreto Comune Gambero su conti e prossimo bilancio in consiglio approdano tariffe e IUC non il conto consuntivo del 2015 in basso Sant'Egidio la banda di Ancarano apre la festa per i 35 anni della gelateria Rolando e poi in alto la cronaca sempre in Val Vibrata rischia di morire al volante per una crisi ipoglicemica salvata dalla polizia parliamo di turismo riportiamo la vibrata al suo splendore il presidente della DMC Adriatica traccia la via per il rilancio investire dice su ambiente cultura e buon cibo proseguiamo siamo alla pagina di Giulianova Mosciano niente parcheggi nella nuova caserma la rimodulazione del progetto elimina il piano interrato con gli stalli ancora Giulianova madonna dello splendore si comincia con una serata fenomenale e poi in basso turismo le manifestazioni le pagano sempre i commercianti il coordinatore di Forza Italia Costantini polemico con l'amministrazione comunale di Giulianova proseguiamo siamo a Roseto il porto è un'operazione fantasia i dubbi della Ciancaione sul progetto nessuna tutela per i pescatori sempre a Roseto Roseto al voto Rapagnà presenta la lista e attacca sull'urbanistica e poi cronaca giudiziaria di Nicola assolto dall'accusa di falso e appropriazione Atri raccolta di firme per la legge sulla legittima difesa siamo la pagina dell'economia la Carbotec apre un impianto in Serbia la ditta di Martinsicuro che produce spazzole per motori invitata nel nuovo polo della Jones Electric andiamo ancora avanti arriviamo così alle pagine dello sport del quotidiano la città in questo caso si parla del Teramo della prima pagina dello sport di Paolo Antonio sogna un futuro in serie B l'esterno del Teramo è diventato un uomo mercato vorrei rimanere ma spero nel salto di categoria e proprio con la pagina di Teramo sul Teramo del quotidiano la città andiamo a vedere invece le pagine dello sport dal centro e dal messaggero partiamo dal quotidiano il centro abbiamo visto anche nella prima parte di mattino 6 i risultati della giornata di Serie A ora parliamo del calcio di casa nostra partiamo dal Pescara da La Padula 23 gol segnati dal Bomber che segna l'attaccante del Pescara su azione al ritmo dei big in Europa 23 gol senza rigori e il miglior cannoniere italiano solo Iguain del Napoli ha fatto meglio ma si parla e si pensa la gara di sabato col Brescia Caprari in forse ventola ferma un mese sabato con il Brescia rientra Memuschai dalla squalifica in dubbio Cocco ed Aresti e poi si parla del Lanciano la penalizzazione Lanciano sul Baratro meno 5 quart'ultimo posto classifica dei rossoneri che si fa molto molto più difficile vedete che il Lanciano con i 5 punti di penalizzazione di ieri che si sommano ai 2 che erano stati combinati in precedenza alla società rossonera il Lanciano scende a quota 38 al quart'ultimo posto dunque situazione che si complica maledettamente per i rossoneri andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini che fa proprio il punto della situazione si complica tremendamente la rincorsa verso la salvezza della Virtus Lanciano dal Tribunale federale arriva la stangata 5 punti di penalizzazione da scontarsi nell'attuale campionato la Virtus scende da 43 a 38 punti in classifica in zona play out appena un punto sopra la zona retrocessione il collegio giudicante presieduto da Sergio Artico ha poi inflitto 5 mesi e 15 giorni di inibizione per l'amministratore protempore Claudio Di Menno di Bucchianico due mesi al presidente del collegio sindacale della Virtus Lanciano Angelo Castrignano e 6500 euro di ammenda alla società e questo il verdetto di primo grado relativo ai tre deferimenti a carico della società frentana che sono stati riuniti su richiesta della difesa il primo relativo al mancato deposito presso la Covizoc lo scorso 16 dicembre delle dichiarazioni attestanti il pagamento di ritenute e contributi per i bimestri luglio e agosto e settembre ottobre 2015 deferimento per il quale lo scorso 17 marzo la difesa della Virtus Lanciano coordinata dall'avvocato Edoardo Chiacchio aveva ottenuto un rinvio della decisione per poter produrre ulteriori documenti a sostegno della tesi difensiva gli altri due relativi alla mancata attestazione del pagamento di ritenute e contributi per i bimestri suddetti entro lo scorso 16 febbraio e al mancato pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre al calciatore Manuel Turchi sempre entro il 16 febbraio secondo quanto riportato nel comunicato del TFN non ha retto la tesi difensiva per i primi due deferimenti secondo la quale di meno di Bucchianico all'epoca dei fatti sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza attribuiti invece al DS Luca Leone circostanza smentita dalla consultazione delle visure camerali circa il terzo deferimento la difesa prodotto fotocopia di un verbale di accordo sindacale che il TFN ha definito privo dei requisiti di validità autenticità e certezza della data dunque il collegio giudicante ha accolto in toto le richieste formulate dalla procura una decisione che la Virtus Lanciano ha già fatto sapere che contesterà in appello anche se sembra difficile ipotizzare uno sconto superiore ad un punto in secondo grado una partita che si giocherà essenzialmente sul deferimento per il mancato pagamento del calciatore Manuel Turchi nel frattempo alla squadra aspetterà il compito più difficile isolarsi da questo contesto e massimizzare i punti nelle ultime giornate di campionato la salvezza con sette punti di penalizzazione complessivi attuali avrebbe il sapore di un'impresa epica e proprio parlando del Lanciano Vitale squalificato salta la trasferta di Cagliari e poi sulla vicenda penalizzazione il club non commenta ma farà ricorso in appello andiamo avanti l'Aquila torna Milicevic di Paolo Antonio il Giolli vincente del Teramo parliamo ovviamente di Lega Pro e poi a fine settembre pronte le nuove case la sede di Lettanti a Silvi Sorgerà il centro federale grazie al contributo di 500 mila euro della Lega Nazionale di Lettanti poi eccellenza Val di Sangro Vastese si decide la sede vertice sul Monte Marconi Ortono Francavilla le alternative Vastese che se vincerà la gara con la Val di Sangro verrà promossa in serie D ma ovviamente bisognerà vincere e poi siamo al calcio a 5 i annascoli vai Pescara conquistiamo l'Europa il presidente Biancazzurro l'assenza di canale e pesante ma resto fiducioso domani la semifinale della UEFA Futsal Cup contro gli spagnoli dell'Inter Movistar e chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero abbiamo visto anche l'intervista realizzata ieri a Leo Junior ex grande capitano giocatore del Pescara che ha inaugurato la mostra per gli 80 anni della società Biancazzurro ovviamente si guarda anche ai prossimi impegni di campionato del Pescara Pescara che tornerà in campo sabato lo abbiamo detto nella sfida molto attesa con il Brescia gara davvero importante ma vedete nella prima pagina del messaggero si parla ovviamente di Junior che incorona la Padula il brasiliano arrivato per l'ottantesimo compleanno del Delfino incorona il Bomber a colpi da grandissimo giocatore vedete nella foto Leo Junior e Bruno Nobili per il Delfino Vigilia Serena aspettando la Final Four parliamo in questo caso di calcio a 5 abbiamo visto domani il primo impegno per il Pescara in terra spagnola e poi è nato un Pescara da battaglia questa è l'analisi dopo la vittoria di La Spezia e poi Lanciano stangato tolti altri 5 punti abbiamo visto il servizio di Andrea Costantini si parla di Lega Pro dell'Aquila da Ceccarelli o Mancini il dubbio dell'Aquila Di Paolo Antonio ha scelto Teramo voglio restare poi Volley Altino festeggia una storica promozione in Serie B1 siamo alle pagine dello Sport Nazionale dunque possiamo chiudere qui l'appuntamento di giovedì 21 aprile con la nostra rassegna stampa grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo come sempre alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti